Amici di Milan.soccer, eccoci impegnati in questa battaglia tra il sottoscritto e la direttrice che vuole invadere il campo. Ci saranno dei provvedimenti, credo da parte della direttrice o da parte mia, non sappiamo. Ed è quello che sta succedendo però anche al Milan. Questa scenetta è venuta benissimo direttrice, quindi possiamo continuare così. Detto questo vi ricordo come sempre, fai l'occhio pietoso così otteniamo più like, scherzo, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, qui sotto da qualche parte, il like al video e l'attivazione della campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre, sempre in basso, in descrizione, anche la possibilità di andare a dare un occhio agli altri nostri due canali, quello dedicato alla storia del Milan e quello dedicato anche al futuro del Milan, ovvero Milan Futuro, Milan Under 23. Allora, da dove vogliamo cominciare ci siamo, direi, cioè si torna in campo, si torna in campo questa che è stata definita un'armata Branca Leone. In effetti è così, purtroppo devo accodarmi a questa definizione, avrei preferito definirla in altro modo, però oggettivamente oggi ad oggi la situazione non è migliorata rispetto allo stop per le nazionali. Non è migliorata perché poi alla fine sì, l'incontro tra Ibraimovic e Fonseca c'è stato, c'è stato anche l'incontro con delle decisioni importanti tra Ibraimovic e la squadra, con l'avallo ovviamente di Fonseca, però le cose, diciamolo, oggettivamente, quando vengono risolte, con strumenti punitivi evidentemente, perché è finito il dialogo. Lasciatemi però dare prima un'altra notizia, poi ritorniamo a quella di copertina, e cioè relativamente al nuovo stadio. È una telenovela, una storia senza fine, perché vi ricorderete che qualche tempo fa il WWF aveva proposto un ricorso contro il nuovo stadio di San Donato, e il Tribunale ha ritenuto inesistenti presupposti per disporre qualunque genere di accertamento tecnico su quanto richiesto dall'Associazione. Il Mila dunque va avanti anche su San Donato, tiene queste due linee. Io vi dico qual è l'idea che mi hanno raccontato su San Donato, la dico così come me l'hanno raccontata e chi me l'ha raccontata probabilmente ha delle informazioni sicure. L'idea del Milan è quella di fare uno stadio nuovo sì, ma alla fine si accoderanno alla scelta dell'amministrazione comunale di Milano. Cioè alla fine il Milan resterà a San Siro, con l'Inter, nuovo stadio, ristrutturazione, il sindaco è disposto a tutto, pur di non essere ricordato nella sua storia come quello che ha perso il Milan nella città di nome Milano. L'altra a me non mi importa nulla, a me non importa nulla. Però, 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 molti mi scrivono e dicono sì, ma San Donato è vero, hanno speso 40 milioni. E l'idea è un'idea diversa, l'idea diversa che ha il Milan in questo momento. Poi è chiaro che si tiene aperte tutte le porte, perché nella vita non si può mai sapere, quindi magari fra un mese ritorneremo a parlare del nuovo stadio nell'area di San Donato. L'idea è questa, cioè che chiuderà Milanello. Milanello sarà sostituito con un nuovo centro, più moderno, sportivamente parlando, all'avanguardia, ma anche con, diciamo così, il museo del Milan, potrebbe essere spostato. Insomma, non entriamo nei dettagli perché non li sanno nemmeno loro, però in un contesto dove comunque ci sarà molto merchandising, insomma, un villaggio Milan, ecco. Da casa Milan a Milanello a villaggio Milan. Un parco giochi forse, mi viene in mente, una Disneyland, una Disneyland rossonera. E' un tema forte, un tema molto forte, un tema caldo, che mi va di affrontare con voi, perché questa è una forma di americanizzazione che oggettivamente mi imbarazza un pochettino. Va tutto bene, poi magari capiterà, se accadrà, capiterà Milanland, capiterà che ci andremo, però, diciamolo francamente, non è questo quello a cui abbiamo, non è questa la nostra speranza. Per questo io ritengo che il fatto stesso che ancora non abbiano le idee chiare, o magari ce l'hanno, però sono idee che sono diverse da quelle che erano state millantate, beh, questo mi porta a dire che in questo Milan c'è tanta confusione, come la confusione che c'è appunto in campo. E allora la decisione è stata presa, è stata presa la decisione di tirar fuori, ufficialmente, Abram è un, possiamo dire che è una sorta di, diciamo così, di provvedimento ufficiale messo fuori squadra, la motivazione è chiara, rigore rubato che ci ha portato via due punti, che ci ha portato via almeno un punto, insomma, ci ha portato via dei punti, ecco, mettiamola così, perché non è tanto per il risultato, ma per come sarebbe poi andato il risultato. Beh, al di là di tutto questo è l'atteggiamento che non va bene. Io nelle prime partite, la prima partita, le prime due partite, ho visto un giocatore che pensavo potesse essere davvero quel portatore di gattusite che oggettivamente noi, che a noi manca in questo momento. Però, al di là di tutto, l'altra figura che pagherà per questo, dall'incontro avuto a Milanello con Ibrahimovic e Tomori, quindi nella partita con l'Udinese ci sarà Pavlovich e non ci saranno né Tomori né Abram. Ma per Tomori, diciamo così, la dichiarazione ufficiale, il commento ufficiale sarà per farlo riposare dopo quante partite. Siamo a ottobre, ieri sera era ferragosto, ma quante partite. Però loro preferiscono tenere tutto in camera caritatis. Va bene, ragazzi, che vi devo dire? Vinciamo questa battaglia legale, non è una battaglia legale. Viene rispinto il ricorso del WWF, quindi va avanti San Donato. L'informazione che ho è che nascerà un parco giochi Milanland, che comunque ricomprenderà in un ampio spazio anche strutture ricettive e anche strutture commerciali, compreso il campo di nuovi campi di allenamento. Quindi chiuderà Milanello, però allo stato attuale la cosa che più mi interessa è il fatto che Ibrahimovic sia ritornato, sia entrato, sia arrivato e abbia fatto, diciamo così, abbia espulso. Cartellino rosso ad Abram, cartellino rosso a, diciamo, a Tomori. Per cui queste sono le decisioni prese. È tutto per adesso, ci sentiamo più tardi. Ciao!